Ciao e benvenuto al primo video di questa serie che ho intitolato Consapevolezza Ritmica. Nei video precedenti ti ho spiegato che cosa è a grandi linee la consapevolezza ritmica e a che cosa serve e perché è importante averla. Ora cominciamo a farci degli semplici esercizi e t sopra per sviluppare appunto questa tua capacità di sentire un ritmo che fluisce nel tempo. Come facciamo a farlo? Useremo una semplice applicazione che si chiama Time Trainer, che è un'applicazione per iOS e per Android, la trovi per tutti i sistemi operativi e useremo la funzione Speed Upper. Lo Speed Upper non è altro che un acceleratore, quindi in un minuto solo passeremo da 60 bpm iniziale a 80. Come faremo questo esercizio? Questo esercizio lo faremo così. Prima riga è dedicata ai gruppi da due, ok? Che significa i gruppi da due? In pratica il gruppo da due è l'equivalente di una nota ogni due sedicesimi. Siccome siamo in quattro quarti in ambiente binario, una nota ogni due sedicesimi, quindi in pratica gli ottavi. La seconda battuta è sempre un gruppo da due ma parte spostato di un sedicesimo. Questa battuta è una delle più importanti che incontri in questo corso, perché se non riesci a fare bene questa, tutto quello che verrà dopo non funzionerà, perché questo è il famoso levare. I due ottavi che stanno sul numero e sulla hand sono il battere. I due ottavi che partono spostati di un sedicesimo praticamente sono il levare rispetto a quel battere lì, ok? Se non riesci a tenere bene traccia di dove stanno in griglia questi ottavi spostati di un sedicesimo, tutto il resto è inutile, ok? Per cui concentriamoci bene su questa riga, facciamola per un minuto di fila da 60 a 80. Useremo le mani per contare la metrica, quindi siccome siamo in due quarti, il primo quarto lo faremo col dorso della mano, picchiando così, e il secondo così, ok? Quando sarà tre quarti sarà uno, due, tre, quando sarà quattro quarti sarà uno, due, tre, quattro. Quindi segnaleremo sempre l'uno girando la mano e palmo contro palmo invece segnaleremo tutti gli altri movimenti. Quello che faremo è cantare ad alta voce quello che c'è scritto sulla battuta, per cui la prima battuta sarà ok? Mi raccomando, tieni la durata delle note lunga, è importante non cantare le note corte corte, perché è importante che fin da subito tu tenga la durata lunga. Lo vedremo poi nei gruppi da 3, da 5 e da 7 l'importanza di tenere queste note lunghe. Ma adesso andiamo subito a fare l'esercizio, ok? Quindi partiamo da 60 e per un minuto accelereremo fino a che non chiuderemo ad 80. Facciamo sempre solo il gruppo da 2. Andiamo! Da 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 ok molto semplice visto quindi per questo primo video è tutto ci vediamo nel prossimo video con il gruppo da tre ciao